Nuovo record di positivi in provincia di Como. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 3.279 nuovi casi. In Lombardia il tasso di positività scende al 17,1%, ma aumentano ancora i ricoveri, soprattutto nei reparti ordinari. La regione, come dichiarato dallo stesso presidente Attilio Fontana, passerà quasi certamente in zona arancione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 265.222 tamponi e accertati 45.555 nuovi casi positivi. Sono 55 cittadini lombardi che hanno perso la vita per il virus. Cresce ulteriormente la pressione sulle strutture sanitarie. Nelle terapie intensive sono 256 malati, 10 in più rispetto a ieri. Balcio dei ricoveri nei reparti ordinari. I pazienti salgono di 203 unità e arrivano a quota 3.202. All'ospedale Sant'Anna sono attualmente 133 pazienti ricoverati, dei quali 11 in condizioni gravi in terapia intensiva. Questa mattina risultavano inoltre 37 pazienti al pronto soccorso. La situazione delle province. Nel territorio milanese sono 13.022 nuovi contagi, dei quali 5.212 a Milano città. Come ha toccato quota 3.279 nuovi contagi, tutte le province, ad eccezione di Sondrio, registrano più di mille nuovi casi.